Dopo tutte le vicissitudini di questa squadra, forse questa è la migliore risposta, forse quella che ti aspettavi, quello che si aspettavano tutti questi tifosi che sono venuti insieme a voi a terra. Se non ho parole, fa parte che sono senza voce, scusate. Siamo felicissimi proprio per quello che abbiamo passato. Siamo arrivati qua avendo fatto un mese di lavoro ma parlando poco di calcio, quindi l'incognita era proprio quella. Infatti i primi 10-15 minuti eravamo abbastanza contratti. Poi probabilmente è una partita, adesso io la giudico a caldo, soprattutto per risultato che ritengo meritato, non tanto sul campo perché probabilmente ci poteva stare anche un pareggio, ma proprio meritato per quello che noi abbiamo passato in questo periodo e quello che so che hanno fatto i ragazzi. Ci siamo detti prima della partita, facciamoci un regalo personale perché si è parlato di tanti e di tutti e poco di noi. Sto parlando a Vicenza naturalmente, poco tra virgolette, nel senso che abbiamo bisogno di anche noi sentirci di nuovo padroni di quel rettangolo verde che noi vogliamo solo giocare lì e basta. Tutte le chiacchiere, le parole, le situazioni che abbiamo vissuto sono state veramente difficili. I ragazzi sono stati... non ho parole per definirli, quindi ci teniamo stretta questa giornata e ce la ricorderemo per tanto. Mister, ci spiega il battibecco a fine gara con il presidente Campitelli? Non ci siamo capiti su una frase, però è rientrato assolutamente tutto. Io ho chiesto scusa al presidente e avevo capito un'altra cosa, quindi nessun problema, ci siamo chiariti.